Ben trovati e bentornati Ben trovati e bentornati al nostro settimanale appuntamento con Tech Magazine dal Polo Tecnologico Lucchese Oggi proseguiamo quella iniziativa che abbiamo iniziato poche settimane fa di invitare degli ospiti che non sono necessariamente legati al mondo delle start-up al mondo delle aziende insediate al Polo Tecnologico Lucchese ma sono in qualche modo protagonisti della vita cittadina e che operano in settori in cui l'innovazione ha comunque lasciato negli ultimi anni un segno importante importante come il festival che il nostro ospite Enrico Stefanelli direttore artistico di Fotolux, appunto festival dedicato alla fotografia biennale molto apprezzato, un festival di respiro internazionale che abbiamo invitato perché ci raccontasse un po' qualcosa di quello che l'innovazione tecnologica ha fatto nel mondo della fotografia Ora Enrico, io con te oggi vorrei parlare non tanto di sensori, di macchine fotografiche quindi di tecnologia ma di come queste innovazioni tecnologiche hanno mutato il rapporto tra le persone e la fotografia partendo da un aspetto che riguarda la quotidianità di tutti cioè lo smartphone cioè noi da qualche anno nei nostri telefoni abbiamo una macchina fotografica che usiamo sempre più spesso e da appassionato di fotografia mi viene da farti subito una domanda cioè perché quando chiediamo da appassionato di fotografia di fare un ritratto a un amico a una persona, a un conoscente spesso ci viene detto, ma no, lascia stare, non vengo bene in fotografia poi sul profilo Instagram di quella persona si trovano tantissime foto scattate in autoritratto, quindi selfie che è successo? Beh, è successo che cambia fondamentalmente, cambia l'approccio perché un fatto è di trovarsi di fronte a un obiettivo che può essere un obiettivo della macchina fotografica ma può essere anche un obiettivo di una telecamera come per esempio abbiamo adesso qua e un conto è quello invece di essere registi noi stessi nel farsi l'immagine per cui è proprio un approccio intanto psicologico che cambia quindi sono io che nel momento in cui scelgo, nel momento in cui voglio nel momento in cui mi metto a posto eccetera mi faccio la foto dall'altra parte invece chiede a un altro o è l'altro che mi chiede, che c'è anche questo aspetto che mi chiede di farlo, allora a quel punto lì la prima reazione automatica che succede uno si irrigidisce, diventa serio non so più se ridere, non so più come metterle soprattutto anche nei ritratti non il piano americano, quello da mezzo busto in su ma non so come mettere le mani quindi è proprio tutto un approccio psicologico che cambia quindi in questo caso l'innovazione tecnologica ha modificato la sensazione di poter controllare il processo creativo sì ma non solo, prima quando volevi farti un autoritratto dovevi prendere il cavalletto metterla la macchina fotografica, posizionare, mettere a fuoco nel posto dove tutti saresti cioè dovevi fare da regia e da regista per scegliere appunto il momento e poi dopo ti facevi con l'autoscatto, col filo lungo e comunque quindi era richiesta anche una maggiore conoscenza tecnica anche perizia, esatto in questo momento invece sei lì davanti a uno strumento che intanto è piccolo per cui anche quando siamo noi che facciamo ritratti agli altri è poco invasivo e quindi non ti dà a fare un'altra cosa, uno strumento della nostra quotidianità per cui ce l'abbiamo in mano sempre, fisso e quindi anche questo ci ha portato ad avere familiarità con l'oggetto per cui non lo consideriamo uno strumento per fare immagini c'è un telefono, poi ormai ci facciamo tutti sul computer eccetera per cui è questo il secondo me l'effetto e da un punto di vista di fruizione di queste immagini quindi semplificazione del processo creativo, maggior controllo dello stesso non c'è più problemi di sviluppo di sviluppo, quindi semplificazione della fruizione è subito immediato e la funzione dei social da un punto di vista di lettura dell'immagine fotografica quanto ha cambiato il rapporto con l'immagine? domanda che forse richiederebbe oltre i 5 minuti no, secondo me, allora intanto l'ha rovinata perché ce n'è un'infinità proprio di... anzi adesso in un secondo si fanno... in un secondo in tutto il mondo si fanno molte più fotografie di quante sono state fatte nei primi 100 anni di vita della fotografia per cui ci si rende conto del... e quindi nella massa di immagini c'è veramente una... c'è di tutto, quindi buone e non buone e qui rimane più complesso anche il processo di identificazione di quanto di buono c'è nella produzione perché poi ci sono anche tanti professionisti io l'ho visto anche nel Fotolux che lavorano sullo strumento smartphone come strumento no? sì sì, assolutamente no ma quello c'è sempre stato che anche comunque nella massa intanto si estrapola diciamo quello che c'è di buono però dicevo quindi la stravolta da questo punto di vista dall'altro punto invece è positivo perché tutti ormai hanno un approccio più immediato con la fotografia non diventa più una cosa per i pochi addetti ai lavori ma diventa una cosa che è proprio ormai di dimestichezza per tutti e condivisibile condivisibile per cui insomma c'è una... questo diciamo è un vantaggio da un certo punto di vista per la fotografia perché ormai tutti ne hanno dimestichezza l'aspetto negativo potrebbe essere che visto che c'è questa grande fruizione visto che c'è questa grande massa di immagini che vengono prodotte però senza conoscere la storia le caratteristiche della fotografia non si riesce più a distinguere il buono dal cattivo e quindi tutto si dà per scontato e ti faccio l'ultima domanda secondo te questa tendenza a una iperproduzione di materiale fotografico avrà un percorso lineare cioè continuerà oppure in qualche modo si prevede o si vede già anche nella fruizione nello sviluppo dei social network dedicati alla fotografia una qualche forma di rallentamento anche di ripensamento della produzione di immagini fotografici quello non te lo so dire quello che so di certo in questo momento è che comunque c'è un ritorno alla fotografia in vecchio stile in pellicola un po' come succede per la musica con il vinile con il vinile eccetera per cui c'è un ritorno tanto è vero che anche i prezzi delle macchine fotografiche che una volta come si dice te le tiravano dietro adesso rihanno acquistato e stanno riacquistando valore quindi ci sarà un ritorno alla consapevolezza credo che nella massa e alla lentezza credo che nella massa più che altro che alla lentezza è a un discorso di pensare allo scatto allo lentezza di rifletto rifletto a quello che sto facendo in un scatto a raffica in certi frangenti no pensiamo alle fotografie sportive lì occorre avere anzi più scatti fai al secondo e più ottieni poi l'immagine il risultato però comunque se ne scegli sempre uno se ne scegli sempre una poi perché diciamo la fotografia diversamente dal cinema o dalla televisione è che ti mette davanti a uno scatto che ti fa riflettere quindi il vero vantaggio della fotografia poi è uno dei vantaggi diciamo della fotografia è quello quello che ti fa riflettere ti avevo detto che non ti avrei chiesto nulla del Fotolux mentivo per salutarci ti chiedo di ricordarci quest'anno è l'edizione è l'edizione biennale il periodo dal 16 novembre all'8 dicembre il tema è già stato scelto più volte annunciato quindi sono le conquiste le rivoluzioni e oltremuri perché ci sono diversi anniversari per cui ci sono i 50 anni dello sbarco sulla luna ci sono i 230 anni della rivoluzione francese i 40 anni della rivoluzione iraniana ci sono diversi temi e diverse rivoluzioni da affrontare c'è Piazza Tienanmen per esempio e poi oltremuri perché sono i 30 anni della caduta del muro di Berlino per cui ci saranno tutte queste ricorrenze quello che verrà fatto come al solito è che non è non saranno solo fotografie documentaristiche o storiche sui temi ma ci saranno si racconteranno i vari temi le varie rivoluzioni anche attraverso delle cose che qui nei linguaggi che qui a Lucca non si sono mai viste sono delle novità abbastanza e che sono poi aperte a un pubblico molto più amico Enrico ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato per le cose che ci hai raccontato ovviamente ci vedremo al Fotolux e saluto a tutti e al prossimo appuntamento con Tech Magazine arrivederci e al prossimo appuntamento